Come state ragazzi? Un saluto a tutti, amici, amiche, anche chi non è ragazzo, ma è ragazzo dentro e sente la passione del Milan. Ben ritrovati sul nostro canale YouTube dedicato ai colori rosso-neri, il canale più seguito ogni giorno da Chi ha Milano nel Cuore, ne andiamo orgogliosi, ma non accontentiamoci e dei risultati in campo, obiettivo seconda stella, rimontone nel 2023, fare il meglio possibile in Champions, stoglierci soddisfazioni magari attraverso la Supercoppa italiana che sarà a gennaio contro la seconda squadra di Milano, e ovviamente anche la Coppa Italia, insomma, speriamo di portare a casa, di raccogliere, iscrivetevi qui, è gratuito, attivate la campanella, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano e lasciate un bel like qui sotto. Periodo di sosta, dei mondiali sto contando i giorni, sono tanti che ci separano dal rientro in campo del Milan, ma mi do una pacca sulla spalla pensando che mai, come in questo caso, la sosta è providenziale per noi, visto che siamo arrivati davvero con la lingua di fuori, quindi va bene così, serviva, serve, e anche noi magari, insomma, ricarichiamo le pile, perché è stato uno stress, tra virgolette, ogni tre giorni gioire, soffrire, aspettare, l'attesa, commentare, scherzi a parte lo vorremmo fare, credo tutti i giorni, però, insomma, è stato un periodo molto intenso, se vogliamo anche per noi, dai, meglio sempre della sosta. Da questo punto di vista andiamo a commentare qualcosa che secondo me è clamoroso. Avete visto in copertina Frank Chessy, giocatore che è andato via, era un giocatore del Milan, e Renato Sanchez, giocatore che non è arrivato, era il grande obiettivo, uno dei grandi obiettivi estivi del Milan per il centrocampo, come spesso abbiamo raccontato qui. Poi, a un certo punto, è arrivato il PSG e è cambiato tutto. Partiamo da chi? Partiamo da chi e da che cosa? Partiamo da Renato Sanchez, e poi vedo questa notizia clamorosa su che sì, che mi fa anche un po' sorridere. Renato Sanchez è un giocatore che ha 25 anni, è portoghese. In estate il Milan lo ha anche aspettato, e aspettando lui abbiamo perso quel Enzo Fernandez, che è un crack del Benfica che potrebbe già cambiare maglia, andando a migliorare. È stato un peccato, a me piaceva molto, e per i tanti che mi dicevano ma vedrai che poi si fa male, e non ne va la pena, io dicevo, citando l'esempio di Ambrosini, a un certo punto però tu cambi maglia, fai il salto di qualità, maturi anche di testa e non ti fai male più. In realtà, lui, quest'anno, insomma, di problemi, continua ad averne. Ne ha avuti diversi con il PSG. Pensate che è stato fuori 19 giorni la prima volta, 13 giorni la seconda volta, e ha saltato la bellezza di sei partite. Ma non solo per questo, il signor Renato Sanchez, a oggi, ha fatto molto male al PSG. È stato il titolare soltanto il 13% delle volte in Ligan, quindi quasi una volta su 10, e ha giocato appena il 23% dei minuti. Poco. Significa che ha fatto una gara su 5. Nel dettaglio, poi, lui, ha fatto anche, insomma, tante panchine. Nonostante, il suo allenatore lo aveva voluto fortemente. In Champions, appunto, ha fatto 3 minuti la prima con la Juve, poi 3 partite fuori per l'infortunio, poi ha giocato 68 minuti e 69. Ligan, no, la prima, 4 la seconda, 27 la terza, 3 infortuni, una panchina, morale, titolare soltanto due volte su 11. Ha giocato davvero col contagocce, e oggi le ultime 3 le ha fatte sulle 3 da riserva del PSG. Oggi, chiaramente, non è contento della sua scelta. Non dico che si sia pentito di una vera certa torna, perché non lo conosco, non ho informazioni, non mi esprimo in questo caso. La cosa clamorosa è che lui, andando al PSG, si sia giocato il Mondiale. Renato Sanchez, il pupillo emergente che già a 18-19 anni veniva convocato e vinceva con il Portogallo. Il talento del centrocampo, il giocatore fondamentale e importantissimo per il Portogallo, andando al PSG, si è giocato i Mondiali. Non soltanto per i problemi fisici, ma anche perché quando stava bene, gli veniva preferito qualcuno. E questo insegna a noi, ma lo sappiamo anche a qualcuno, magari, che bisogna sempre capire che tu in un posto sei importante e altrove non lo sai. Sai quello che lasci, non sai quello che trovi. Quindi andare nello squadrone europeo con tanti big ha dei lati positivi, ma li ha anche negativi. Renato Sanchez oggi si è scontrato contro una realtà negativa. E quando un giocatore dice sì al Milan e poi aspetta e poi va altrove, diciamo che a me non dispiace. Se poi, da punto di vista sportivo, vada male. Però andiamo su che sì. Ragazzi, che sì. Che sì oggi ha 25 anni, ne farà 26 tra un mesetto. E' andato al Barça. Sapete che, vedi sopra, fotocopia di Renato Sanchez. Però ecco una cosa, non scrivetemi, pensiamo ai nostri, eccetera, eccetera. E' un periodo di pausa, di sosta. Possiamo pensare anche a quelli che erano nostri, e quelli che potevano essere nostri non lo sono stati. Perché possono essere l'insegnamento anche ai nostri. Che sì, ha fatto in totale 13 partite con il Barça, ma appena 485 minuti. Quindi ha giocato 5 partite. 5 partite con tante panchine. Come Renato Sanchez, 11 partite di campionato del suo club. Unire fatte soltanto 2 da titolare. Giocatore che sta giocando come una riserva qualunque. Forse riserva anche della riserva, perché aveva fatto pure il terzino una volta. Ha fatto 14% di partite da titolare. 17% dei minuti giocati. Quindi peggio ancora di Renato Sanchez sui minuti giocati. Ha giocato meno di un quinto dei minuti a disposizione. E chiaramente uno come Cassino non può essere contento, non è contento. Si è pentito? Forse sì. Non ce lo dirà mai. Ma probabilmente si è pentito. Di aver sposato un progetto sportivo che con lui ci azzecca a zero. Ed aver lasciato un progetto sportivo che era cucito attorno a lui, nel quale lui era un top. Giocava sempre, sempre, sempre. Nella parte finale della scorsa stagione sta in panchina Ben Nasser, che si gioca sempre. O in ai due o davanti. La cosa clamorosa però, intanto, ripeto, sarò antipatico, non lo so, ma quando uno va via, secondo me, se poi va male non è una brutta notizia per chi tifava per lui. Non mi aspettavo però un impiego del genere così scarso. Sapevo che avrebbe avuto difficoltà, però l'hanno preso. Ci azzecca nulla col tiki-taka, però se l'hanno preso magari non mi mente qualcosa di diverso. No, no. Doveva capirlo lui. E chi lo consiglia? Tangana, che l'ha portato a incassare più soldi, per carità. Livan sorride, ma le scarpette no, piangono le scarpette. Ebbene, la cosa clamorosa è che dopo tre mesi dal suo prodo al Barcellona è incredibilmente in discussione una conferma già dopo gennaio. A Tangana, che il suo manager un paio di settimane fa aveva detto non è vero, lui è contento, eccetera, eccetera. balle di circostanza per mascherare un trasferimento flop da punto di vista sportivo. La notizia delle ultime ore è che il giocatore potrebbe cambiare maglia, ma non per fare degli upgrade, per fare dei downgrade. Ad ora vado a recuperare la classifica. Ci sono state degli interessamenti per lui da un paio di club di Premier League. uno è il Watford l'altro è il Fulham scusate uno è il Fulham l'altro è la Stonevilla volevo vedere come sono messi per capire dove potrebbe prodare la Stonevilla è dodicesimo l'altro cos'è che era? Watford mi sto un po' confondendo a Stonevilla dodicesimo e Fulham dove è il Fulham c'è il Fulham o addirittura aspetta che mi sia inserita sta pubblicità che palle classifica Premier League dov'è? mi viene il dubbio che il Fulham forse sia nella nella Championship vediamo insieme qui ci sono mille banner eccetera eccetera ah no il Fulham ma no il Fulham è nono a sette punti anzi a dieci punti dal quarto posto tradotto Premier League per carità però lui oggi è destinato a ridimensionarsi terribilmente dal punto di vista sportivo perché va eventualmente in club di media o bassa classifica di Premier League che la Champions League la fanno con il binocolo dall'altra parte i suoi compagni del Milan la Champions League la fanno agli ottavi contro il Tottenham ci sono agli ottavi lui è andato a fare l'Europa League e questo secondo me è un cerchio che si chiude non mi aspettavo ripeto che è clamoroso che lui già a gennaio possa cambiare maglia sarebbe il sigillo su un fallimento sportivo di una gestione sportiva da parte di Atanganà per lui clamoroso appunto di fatto spero che possa essere di insegnamento anche a Ben Nasser a Leao a chi pensa magari di andare a incassare più soldi andare a spaccare il mondo altrove e poi si riscopre piccolo 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 ripeto Fulham e Aston Villa la Premier League la fai come me scusatemi la Champions League la fai come me come voi cioè la guardate noi più coinvolti perché abbiamo una squadra da Tifare lui no se va lì in ogni caso la Champions League quest'anno nel 2023 lui non la fa fa l'Europa League il Milan fa la Champions League non mi aspettavo sinceramente un doppio epilogo del genere non mi dispiace affatto sono molto sincero voglio essere non voglio essere politicamente corretto se Renato Sanchez non va bene i problemi della vita sono altri quindi non mi dispiace se che sì non va bene idem idem detto che a differenza magari di altri che sono andati via senza farci vincere non ce l'ho così tanto con lui a lui contesto quella dichiarazione torno e sistemo tutto alla faccia lo sappiamo come è andata a finire ora ecco l'auspicio di aver trovato di trovare nel 2023 in Vranx il sostituto adeguato di un giocatore comunque importante per il Milan ma non per il Barcellona evidentemente è così ditemi cosa ne pensate ragazzi commentate numerosi qui sotto voglio leggere i vostri commenti ripeto un video un po' diverso perché abbiamo tempo spazio e modo di parlare anche di qualcosa legato al Milan ma non direttamente iscrivetevi qui chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano e lasciate un bel like qui sotto commentate vi aspetto poi vi metto il whatsapp qui sotto per prenotare il vostro tavolo il 4 dicembre alla festa natalizia di Milanello a Seregno a un quarto d'ora da Milano facilmente raggiungibile pure il locale un abbraccio a Seregno